la live è mia in caso state vicino al mio corpo è certo che sono morta ma porca puttana sono piano che cazzo vi serve un healer? sono calmi vabbè prendo io l'healer dai lascia prendo io l'healer lascia faccio io ok siamo partiti adesso è il menu quindi non si vuole da niente vuole un healer? più o meno eh non so se nel menu funziona non si vede nulla aspetta no si vede no perché è notte aspetta che metto un po' la luce ok ok in the witcher non si può dormire e schifare le cose medita non è come in skype che stai fermo lui medita in the witcher non si prende guarda che bello il panorama quando ti sei girato con la telecamera andava bene questa è qualità bassa eh io ve lo dico qualità bassissima del gioco eh ma è comunque buona comunque è buona e ho tutto basso aiuto allora ti sto già curando Ckiver e comunque non ci vede male attenti a rotazione no vale che non ci sono scatti né niente no vabbè se ci vede male gli altri è una merda con i texture bassi gli altri è una merda si beh ovvio qualcosa di negativo ci deve essere però tutti giocano a basso che cazzo sarebbe a farlo però è molto molto bello si vede bene però guarda che è bello il panorama questo dieci vedi che funziona questo perché così facciamo un bordello di danni è a Tosca ma a me non mi prende cioè si mi ha preso mi sei stato bravo di lato no non parliamoci sopra oh vi spostate cosa volete cosa volete ho dato la scatola vi c'è un pugno a testa tutti e tre siamo in streaming teppicamente è colpa nostra in culi no non in culi user love to a channel ho spostato si dicevo dicevo non so più ho vedo quella che vedi avanti ma che si vede adesso in live è stato per visitarla anche poi non so se attualmente è uno sfondo che cosa fai allora non sto capendo dove sono io allora posso parlare ora in pace si non so chi vi stava spostando è porca puttana ogni due secondi ho capito dove cazzo è la roba ti ha spostato a casissimo ok cosa dicevo ah se stai davanti è quella principale in te posso far visitarla però non capisco se da qua è un'immagine o se il mio vicino si crea adesso sono curioso adesso posso farlo a cercare tu fai le robe in caso ti diciamo noi fai le cose tranquillo tu poi se notiamo qualcosa faccio una missione ti diciamo noi se c'è un problema forse la qualità è un pochino bassa della live o la posta? no no si vede stra bene non spixella mai si vede molto bene si vede bene ma perchè tu lo volevi fare nelle live parlate? beh potrebbe starci siccome la sera non qui sono io ma se vuoi fare anche di pomeriggio anche lui ogni tanto infatti ci sta questo gioco lo sto giocando quindi permesso allora ti smetti di andare al menu? io devo fare un sacco di cose ancora gioca che voglio vedere è un attimo da del tempo mettete asporto qua in realtà questo ho un sacco di dove devo fare 10 ancora no prima o poi me lo devo prendere no anche io mi sa che me lo prendo oggi stesso appena scendi no no ma comunque in generale appena scende su steam me lo devo prendere su steam infatti quasi andrei a fare la missione che c'è qua andrei a fare questa quasi quasi tiè andiamo a farla puoi leggere la chat un pochettino che non li stiamo cacchando di stris no ma io si sto leggendo pian pianissimo non è in note ragazzi che dovrebbe essere in note e l'altro fosse un po' altro è in note se romerà stasera è in note chiedi passa un po' l'audio eeeh ma magari un test lo fa anche lui dopo eh non lo so si forse giuterà un altro test a quando questo è così meglio per voi mi sa fare un po' altro l'audio l'audio non lo faccio volendo eh adesso è un macchina si abbassa l'abbassa stanno l'alberta eh ma io lo track come lo faccio uno lo fanno su lo regalavano due games week fa? ma per cosa? per cosa? per la play? perchè per la play il gioco comunque è più scomodo ah si è vero se prendevi tipo un gioco ti regalavano due luce eccetera per la play? no era questa games week perchè games week 2 games week fa era una cosa che si tratta di cera ma fu**a questo è un must non vuoi dire sì è un pastillo tremendo beh ciao edu ma comunque si vede bene è molto vero chi è? no ma è una live di prova ma non hai detto neanche clare che richiamo fu**o su youtube di prova ma è mezzo magari fianco non so poi no alla fine non ci conta niente no eh per Xbox One non ce l'ho risposto no ma poi in generale per stasera streamerai notte faremo Rainbow Six io lo voglio su Steam The Witcher se lo voglio proprio su Steam neanche su GOG su... su Origin lo voglio su Steam allora c'era qua quante botte ti ha dato con la pianta buona croia però l'ho ammazzata fanculo ho un bel po' di video oh quanta roba c'è quanta roba eh sii ma anche perchè poi il primo e il secondo ce li ho su Steam ma si ma bravo lettera alla madre vabbè si forse era già uscito nel 2015 beh si è vero effettivamente da più di un anno che c'è è l'aglio del gioco dicono che è alto forse dicono che è alto si devi abbassare un pochettino adesso lo abbasso un attimino ah hanno messo le... dati di rilascio dei nuovi operatori aspetta fammi vedere adesso c'è trovo da prendere intanto ma guarda non mi serve ciao zio rinforzi di metà stagione ecco qua no the witcher va giocato assolutamente infatti si si son pentito di non averlo preso in Italia operatori operatori rivisti ah ok modificano tachank ok questo dopo il vita eh no ma aspetta non è questo si adesso abbasso anche un po' l'audio l'audio l'abbasso ancora si è la qualità video si è buona l'abbasso la musica un po' anche e puoi abbassare tutto così così te va bene dovrebbe andare e la musica che è alta ciao zannab la musica che è alta chi c'è? ai cani che fastidio eh anche i libri sarebbero da leggere si boni boni no Danny adesso costa 30 euro di base su steam devo aspettare che lo canano 30 euro non lo prendo si era 20 ne saldera 19 euro poi vabbè col DLC no era 15 no vaffan... si ne saldera 15 e 30 o 35 quella totale ho l'armatura del CIA da witch del lupo sono 20 anni a farlo vaffancula sono 20 anni a farlo sto parlando di merda forca troia no vabbè Alex non... ma tu te la prega Alex è meglio alza poi è chiaro ognuno c'è il suo stile di gioco quindi ce l'ho fatto? no niente diceva che ha detto che forse se salterà il lab di the witcher ce le facciamo perchè lui avendolo giocato tanto tanto ha paura che poi si mette a parlare a dare consigli eccetera però vabbè alla fine se vuoi dare consigli basta che lo spoiler e poi potrei fare anche altre cose tecnicamente tipo fare meglio gli attacchi o cose là però non le faccio perchè non... ma ogni mostro che uccidi ti da un po' di esperienza esperienza se uno volendo potrebbe farmare no no è difficile su the witcher è facilmente meglio fare le missioni non vedo niente aspetta come ci facciamo così così ho sbagliato tu l'ho usato ah ho usato la pozione sbagliato si ok anzi ci facciamo vedere meglio in live anche che se no si vede un cavo di serrotta tu sei un cavo ah grazie best killer anche se te l'ha bannato l'ho visto season one season one ok a febbraio a marzo tra marzo e tre mesi quindi escono escono ogni due mesi quattro ruovi primati nove nuove armi ciao ciao nuovi paratori ok ciao 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 franci ciao franci ciao ah no quindi sono febbraio maggio agosto e novembre ma ci sono quindi e le bandiere c'è passami passami ah aspetta ciao alex non riesco a riconoscere le bandiere sembra spagna la prima no la spagna sicuro perché l'avevano detto corea corea è l'ultima poi c'è danimarca quella lì eh non riesco a capirla fa vedere se è la danimarca no non è la danimarca mai che cos'è quella lì ah ok ho trovato spazio del gatto spazio del gatto spazio del gatto spazio del gatto quanti del gatto ha il maestro tiè io con le bandiere sono sempre stato imbranato no poi in bianco e nero così non è che si capiscono molto ragazzi in chat la bandiera con la girandola in mezzo di che stato è? non voglio porto mai è una girandola allora ok aspetta fammi vedere bandiere mondo è una bandiera che c'ha la polonia dicono fa vedere? allora l'ultima è la corea del sud per questo siamo d'accordo no la polonia sono gli operatori degli altri dopo la bandiera con la girandolina in mezzo taiwan dicono fa vedere taiwan mi dà la bandiera di taiwan no non è taiwan no quello è un sole è proprio una girandola è proprio una girandola e non c'è il colore sono i bianco e nero ragazzi di povo hong kong non credo sia si forse sa che è hong kong perchè hanno detto che dovevano essere di hong kong credo i povo che lo banno i coglioni però non esiste no è hong kong veramente mi sa ah in questo sito non esiste la bandiera di hong kong la bandiera di lord è hong kong basta non lo scrivete più quindi sono spagna, hong kong, lonia e corea del sud ottimo ottimo e tutte dentro l'anno entro l'anno queste qui eh eh c'è scritto febbraio, maggio, agosto, novembre anche io mi sa che 5 euro se li butto su ma li prendono direttamente il season pass che ti da anche i punti no non posso andare no io non li voglio prendere il season pass perchè mi piace sbloccare le cose eh proprio di 5.000 sono tanti eh ma ci gioco tantissimo eh si ma vuol dire che 8 operatori da 25.000 sono 200.000 punti sono un po' tanti eh ma alla fine mi da anche un motivo in più per giocare più sbloccare beh ma sbloccherei le skin a sto punto tanto certo comunque sempre qualcosa da sbloccare di operatori di rainbow six ragazzi stiamo parlando dovrebbero uscire a settembre come dovrebbero uscire a settembre? no no magari quello con la tabella escono ogni 2 mesi da adesso eh ma magari si arriva a settembre così no si arriva a novembre perchè escono febbraio, maggio, poste novembre poi inizia la season 3 ciao la zanna quindi è che la prende qui c'è in data non funziona si si non da problemi però adesso andiamo a fare un contatto che sono qua che è la noia si fai qualcosina e poi chiudiamo tanto era una prova si è giusto per vedere se mi funzionava no ma infatti su no ma infatti è giocatissimo su sim è veramente giocatissimo ma infatti io spero che vadano avanti ancora un altro anno dopo magari mettono gli italiani eh hanno fatto una petizione ma e alla fine chi cazzo rimane fuori ormai li ha messi di tutti mettono Hong Kong mettono ok e il secondo cosa si deve mettere? no l'offerta che c'è del negozio di 20 euro dovrebbe essere quella vecchia cioè degli operatori vecchi non di quelli nuovi ok sono in love con i tuoi quelli del season pass passato che non si può più prendere però ti danno il pacchetto con gli otto operatori del season pass passato ma guarda in live c'è un po' di casino su The Witcher c'è un po' di... sì c'è un po' di casino su The Witcher c'è un po' di solo cosa qua non solo cosa però è niente hanno rotto tutto ma quindi ancora tu hai i contratti che non hai fatto missioni che non hai fatto mai eh su 10 si ah già che sei nel DLC ma la tà i contratti su quello... normale non ne ho più contratti per i propri però ho molte missioni scondate ancora da fare in realtà no poi ho detto che in questo anno aggiungeranno quattro mappe nuove che comunque quattro mappe nuove non sono poche no 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 eh sono quasi... quasi raddoppiare quelle che ci sono più o meno no a me davvero ha preso... ha preso tanto 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 Rainbow Six proprio... è un gioco che... di cui avevo bisogno per tornare a giocare in generale eh The Witcher mi sono pentito 6-7 volte di non averlo preso perché è un altro gioco che va giocato assolutamente ma anche se non hai bisogno di questo Draconid deve essere graficamente anche al minimo o comunque quasi minimo non ci sta eh 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 forse per quanto mi senti che stiamo cercando il tuo giorno perché... in giro per le parti dicono Italia, Grecia, Sudafrica, Peru e Cile che hanno delle... cosa? ah ok che potrebbero mettere perché hanno delle... degli operatori non so se... sì tecnicamente mettono delle mappe basate sugli operatori che mettono infatti hanno messo l'ultima giapponese infatti sono usciti quelli giapponesi hanno messo mi ricordo per Caveira e Capitano hanno messo Caveira eh esatto quindi... spero che magari quando parlo con l'italiano ci sia una bella mappa in Italia i posti ce n'è per farlo vabbè Marv ma alla fine piano piano si... anzi impari a gio... impari... intendi Rainbow Six impari proprio a sparare su Rainbow Six avere riflessi più... più pronti e si impara giocando semplicemente beh... un po' di buono che hanno fatto e la prima volta che erano in corso qui probabilmente è un mercato per il mondo solo per aver capito due trattori che hanno chiesto questa ruta inoltre i signori sono venuto così rápido come poter non so se non si può 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 ve lo dico subito sono a 150 giuste 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 sono no quella delle favelas non è italiana oh no è... brasiliana è una battuta era molto molto fine la loro popolazione era molto più grande a una volta vedi? prima che le foresti di beach erano fallate vuoi suggerire una direzione direzione tra la densità di beachwood e la popolazione di beachwood e la popolazione di basilisk si su course giocano beh magari c'è qualcuno anche che gioca su console usa course allo stesso tanto course funziona anche su cellulare comunque su course c'è un sacco di gente che gioca un sacco di cose quindi sentate si alla sera c'è sempre gente che gioca c'è anche gente che si è fatto un bel gruppo per giocare a TTT tra le loro se volete è un po' che non vado a salutare le genti dove ne devo passare Iokast dovrebbe non avere un nome? mio padre l'ho chiamato in honor of my dear departed mother Iokast era brooding 2 eggs che l'ho chiamato dal suo nesto quando il male perisciò che tristezza però questa ambizione di the witcher chi esattamente sei il Count Borges è felice di essere di servizio per quanto riguardo questo è il nostro dynastico simbolo i Dissalfaresi sono segnati con la storia di famiglia una femiglia ha salvato un ancestro un bambino da un bambino fuori l'ho chiamato da l'ho chiamato come se fosse uno dei loro nostri loro malarkey quindi non posso ammazzarlo cosa devo fare? gli paghi? mi dai i soldi? se no lo ammazzo a parte che ti sta parlando chiaramente un tuo parente un tuo cugino con i capelli bianchi con i capelli bianchi eh si cugliore ma tranquilli tranquilli tanto è una live di prova non durerà tanto si infatti ci monterà infatti in live perché gli altri si no ma è solo per vedere un po' come va di witch adesso farà questa missione qua poi chiediamo già esprimere tu giochi col pad? si comunità in età giocavo anche un monos stasera una volta ci può fare eh abbiamo più giocato a battlefield 1 nessuno ce l'ha di noi non è carino e nessuno ce l'ha non mi ha proprio detto niente ma se vuoi fluo non so cosa chiedere l'amicizia muvot dovrebbe avere anche un casino beh ha 140.000 follower muvot questa famiglia di mercanti per essere sicuramente indemnificata è un po' poco proprio la morte di un di un familiare comunque coglione sei tranquillo capito mi pagano la merda per ammazzare un mostro è lungo the witcher si infatti va giocato tipo se prendessi final fantasy più o meno fate conto che adesso andate 100 ore su the witcher comunque e non ancora più chiedereci e ho un sacco di bisessioni da fare ancora grazie di l'amore infermiera gli controlli di pene veda se c'è la più lungo del mio no dottore bene che cazzo mi spaventato io grazie di un dog molto molto aspetta dov'è dove è il basilisk nesting? hai qualche idea? ovviamente ho un'idea ma non mi aspettate davvero di dire tanti queste non sono le spiagge io conosco le tue intenzioni ho trovato me stesso è facile attraverso con il suo particolare ha parlato di due mercanti e ammolo quindi potremmo anche guardare gli altri corpi questa cifra siete tanti ormai siete belli buon pomeriggio Joseph ci stiamo avvicinando anche i 20 mila stiamo leggendo un sacco di 88 87 86 dei nickname di chi ci segue tanti ma anche comunque intorno ai primi anni 90 ce n'è tanti tutti che hanno over 20 anni che t'è bello over 20 21 c'è no non è che quelli piccoli sul troppo no anzi assolutamente grazie mille mickey jack nuovo sub grazie mille mickey jack jack ricordiamo ovviamente già che siamo qua anche siamo pochini che chi fa la sub con twitch prime deve rinnovarlo ogni mese perché non lo fa in automatico ricordatevi così pian piano poi avete i vari termosifoni di vari colori esatto ciao playon però ci sono anche gli altri poi che saluti solo me ma anche l'iozoro è desperate tra l'altro ieri ci ha riconosciuto uno su rainbow six ha riconosciuto solo me e non mark e non o no esatto no tu sono anche in dove in dive si si no però ieri stavamo giocando a caso così però solo me ha saluto poi rainbow six si no è pieno di gente rainbow six ha un sistema tipo di che mette un personale vicino a te dovrebbe essere tipo cod si che cerca i più vicini a te e poi pian piano estende la ricerca no ieri su rainbow six in una serata ne abbiamo beccati tre che ci ha riconosciuto si è proprio perchè si trovano tanti italiani anche quando giochiamo in live con karim quasi sempre troviamo italiani si ma perchè lo fa apposta per le connessioni vabbè corn fatti debite io sono del 93 come è me dasher io faremo live pomeridiane è una prova giusto giusto perchè esco siccome la sera c'è meno adesso potrebbe farle di pomeriggio si ovviamente non avvisiamo niente saranno live extra ma è un po' come quelle che facciamo ogni tanto io e moro a luna di notte anche un po' come fa quale il fuo gatto alla mattina così sono live extra che se abbiamo voglia di farle d'altro cosa stai ravanando del succo rosso ah no era l'ombra rossa cosa? stavi ravanando in del succo arancione rosso no arancione perchè sono venuta nella witch quando li uso si trova spesso italiani simon eh ma ultimamente si ma perchè fall matchmaking giustamente per ottimizzare la connessione ma poi tanta gente che gioca a rainbow six magari ci ha iniziato a seguire in quest'ultimo periodo proprio per rainbow six e quindi la becchiamo si poi magari l'hanno anche comprato l'abbiamo fatto anche a comprare a tanta gente anche quei saldi nataliz grazie a Danny grazie Danny il lupo questo è un coglione questo è un coglione ma fa un coglione poverino solo perchè un lupo no non quello che ha fatto da subscriber questo è un coglione c'è entrato nel channel è normale che ci seguo e per vedere gli controlli di te vedete se ce la prendiamo no ok è bene è tanto devo provare io ah fai la prova anche tu no? ma si facciamo 20.000 prov facciamo una partita di cosa di overwatch overwatch o rainbow six ma prima tanto si va overwatch si va anche rainbow six ma in realtà si va no no è meglio se prova rainbow six che è più pesante eccolo qua beh si e poi così gioco anch'io dai dai bravo mi disiscrivo da espo solo da espo vai bene dov'è il imbrotore? l'ho perso? ma puttana adesso hai not ha la fibra siiii io ho la fibra e anche cazzo di oro comunque qui va la fibra e chi la castigra si è messo almeno 7 mesi per questa cazzo di fibra eh e a me ancora non l'ha rimessa quella buona pensa pensa io son quello che dovrebbe averla sempre tutto l'anno ma perché non vedo delle cose? dov'è? qui qui ok buon pomeriggio eh vedi ma tanta gente probabilmente l'avrà comprato rainbow six dopo averlo visto da noi eh ma per quello ci sta riconoscendo di più secondo me e non so se notate ma guarda caso su youtube sta comparendo molto più spesso adesso quanto abbiamo iniziato per noi no ma veramente è stato incredibile adesso non per eh non è che chiaramente non è che copriamo nessuno o qualcuno copriamo da noi per essere onesti c'è uno youtuber che lo fa da due anni no c'è in realtà ci sono due canali e l'abbiamo anche visto da lui noi diciamo ci sono due canali tipo io da quei due sul server l'avevo visto molto prima di comprarlo e di farlo noi beh sì e bistard anche anche bistard che lo fa da tutti giorni da due anni però da quando l'abbiamo fatto allora a parte che abbiamo fatto uscire il video noi l'ha fatto chiunque poi l'ha fatto Zeb esatto esatto non mi ricordo chi altro l'aveva fatto l'aveva fatto non lo so poi ha iniziato Belagode ha iniziato Ciccio vabbè perché Ciccio comunque ci sta vado io non vedo l'ora di fare una 12 ore con la fibra ragazzi non vedo l'ora e poi chiaramente nessuno ha copiato nessuno ci mancherebbe no assolutamente la gente si è reso conto che non è brutto Rainbow Six perché l'hanno ignorato tutti in realtà sì infatti è che è il discorso che si fa con Dark Souls tecnicamente nessuno lo sta giocando poi è esploso perché è iniziato Karim più vai not esatto ah vedi vedi ma poi Karim poi da dai esploso però ho detto io a Karim di farlo cioè effettivamente da solo non giocava nessuno tranne Sabaku che non aveva pubblico all'inizio che non aveva pubblico da quando l'ha iniziato a fare Karim poi ma grazie che mi dice che Korn ha iniziato a subire adesso cioè è mezz'ora che commenta Korn ma mi ha detto adesso Twitch che mi sta guardando ah interessante è interessante è come su Rainbow Six quando dice muore online e stiamo giocando tutto quello che fa ma è quello perché su youplay che fa che cazzo eh si è esplosa negli ultimi mesi è esplosa la Rainbow Six proprio in generale Rainbow Six Fiber cioè noi l'abbiamo fatto la prima volta però penso anche dalle live di Karim è una relazione eh Sì no ciu ciu y ciu ciu i grazie ciu 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 i ciu 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 la leX ciao oddone che odd one però e bello dire oddone tanto che fino ha fatto odd one quellodio nerve avrei un patto se lo ris fa? eiec melodica ali melodica quindi dove vado di qua attracchere l'odore davvero a volte si nasconde non si vede a volte ma quanto è alta poi? addosso è migliorato rispetto al 2 c'è l'uno dobbiamo fare il flagone? no, è un Witcher 1 cazzo c'è qua tra l'altro Rexian non fa più video no ho letto Attack on Titan c'è l'ho qua di fianco c'è l'ho fisico proprio non penso perché verrebbe identico all'altro esatto per quanto ci siamo divertiti ma non penso che che verrebbe un video decente cioè non decente verrebbe esattamente uguale come sarà difficile anche se molti di voi piacerebbe abbiamo letto per ora The Divisions non gira non è che non voglio farlo non posso no, non lo faremo ma ho registrato io ed era l'unico che andava bene a me a Moramark andava di me andava male o non andava proprio quindi se devo giocare così non sto giocando mi nervosisco e viene un viaggio per ora niente Geralt of Rivia sono un viaggio mi sono messo però io e Not dovremmo fare qualche altra cosa a breve adesso appena torno e poi ritorneremo anche io e Not con con un H1Z1 sicuramente dobbiamo vincere noi andiamo avanti a farle finché non ne vinciamo una no Ali no no ma invece ci piacerebbe fare tutto di diviso ma non non va mi accetterei no te ne fai un altro più bello eh no dice che non ho più tempo per progettare un mio gioco quindi no no boh eh no un suo gioco quindi un mio gioco vabbè però andresti a lavorare vabbè però sei ricco eh scusa lavoreresti per subito vabbè eh vabbè ciao Giulia hai sperita una scheda video mi pare della Chico io me la Chico si si non dovrebbe no non dovrebbe non dovrebbe no non dovrebbe non dovrebbe si comunque è abbastanza vecchiotta vabbè te produciamo sto basilisco di merda questa volta una bella una bella survival anche da un survival di cosa di che cosa di H1Z1 di H1Z1 lo facciamo solo in video ti piace ah e basta ma poi la storia di H1Z1 non ci abbiamo mai giocato per bene ma non fai uccidere non vuoi uccidere un basilisco eh esatto signorino a friend chi se ne frega io e not faremo video all'infinito di H1Z1 che dato non vinceremo mai anche perché ho letto la lettera del tipo di prima gli ha detto che sono andati comunque perché gli pagavano un di più se andavano con me con questa ma fa cura sei morto perché vai in una storia di un di più ah sì per la storia della QDGT5 ogni tanto Roti ci danno occhiate e accetta più o meno tutti ovviamente se siete su bici sarò niente ma vuoi dire le mostre che cosa è cazzo hello everybody beauty pie beauty pie allora finiamo questo contratto qui poi switchiamo per una prova di E-not aspetta a che ore si fanno poi perché c'è la Robby no infatti quindi no beh abbiamo ancora un'ora di tempo abbiamo ancora un'ora di tempo adesso finisce qua che schifo la vicenda invidia procede che non procede basta si è interrotta appena inizia esatto esatto ah sì è vero anche tu corna puoi farlo grazie non mi ricordo il problema è anche di GTA come avete visto nell'ultimo video da leggermente problemi a parte che adesso sicuramente non abbiamo neanche idee di fare video così tanto perché fa visual GTA mi sta sulle balle quindi se abbiamo video lo facciamo tecnicamente in programma un video per GTA e basta per quest'anno ma che schifo io volevo dire il mostro ma che palle mi dà fastidio adesso adesso carico la qualità e non ha male a mattarla un po' scappitana come ha fatto un basilisco adesso fammi vedere io ancora non ho capito io ancora non ho capito come ha fatto Roccofegis a fare tutte quelle visual ma perché è un bel gioco per i video te l'ho detto ma un video sì per un video ci sta infatti uno non si fa no il termosifone color cacca volevo dire corna poi mi son fermato io niente quindi la missione è finita io sto qua in mezzo a nulla cosa cazzo faccio niente 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 chiudi e facciamo le note entriamo subito vado a sugirarmi ma gli altri morono vado a salvare comunque no se voglio venire siamo qua dai vi saluto con questo bellissimo panorama qui adesso torniamo subito se volete stare qua con un test di remos vedi mal che è la toscana chiaramente questo posto mal che roba è la toscana ma è figo l'ambientazione è veramente bella sono vigneti ovunque vivo e basta intanto entra su rainbow six sai che ci vuole questi sette minuti io sto fuori così guardo la live vabbè chiudo ci sentiamo fa due secondi se c'è posto ti invito comunque si vai corna entra pure